salve a tutti e benvenuti a questa questo nuovo anno direi di di soundtrack city quindi buon duemila e ventitré a tutti quanti e come al solito ecco qui massimo privitera ciao massimo ciao a tutti ciao marco che bello rivedervi risentirvi riavervi che bello che bello allora dunque raccontiamo un po di cose di novità che ci sono massimo e allora vi aspetta diciamo un inizio d'anno abbastanza schioppettante perché abbiamo molte interviste in servo con musicisti compositori e non solo e non solo anche gente che lavora intorno alla musica intorno alle serie ma non necessariamente compositori cambiano anche qualche cosa allora soundtrack city plus sarà da adesso in poi in chiaro e destineremo a quel canale lì le interviste appunto le interviste esclusive ai vari operatori del settore che ci capiteranno sottotiro mentre soundtrack city questa quella classica diciamo così come al solito andremo sui magazine sugli approfondimenti sulle presentazioni di libri sempre a carattere musicale eh legato appunto alla musica applicata e quant'altro ovviamente eh continueremo eh io e massimo e quindi soundtrack city e colonne sonore a mettere contenuti in in rete relativo a questo mondo che è il nostro mondo quello della della musica applicata vuoi aggiungere qualche cosa caro massimo che come vedete sta in una nuova eh location ancora un po' così un po' da sistemare ma ci tengo a sottolineare che quest'anno c'è un anniversario importante quindi iniziamo il 2023 con il botto perché la mia cara rivista di cui questo mio amico accanto è il vice direttore da un bel po' di tempo se non ve lo ricordate colonne sonore compie vent'anni vent'anni ragazzi eh ti pare eh tra l'altro il giorno della Befana con le gli ex soci fondammo proprio la la casa editrice e poi venne fuori questa rivista che ben conoscete sia prima in formato cartaceo e ora solamente web in che mese è stato il primo numero? Il mese preciso era luglio il mese del mio compleanno quindi allora guarda facciamo in tempo massimo farò di tutto per convincerti a fare o almeno un numero cartaceo dai ritorniamo a fare un numero cartaceo facciamo veramente un generale per far sì che 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 questo accada perché secondo me vent'anni sono importanti e ogni tanto è anche bello avere in mano dei pezzi di carta più che con questo mondo digitale in cui stiamo piano piano voglio dire affondando eh concordo pienamente magari sarà un the very best vediamo vediamo cosa dai vediamo dai dai faccio di tutto per convincerti vediamo vediamo andiamo 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 su più bello a parlare di due film uno al cinema anche se eh ancora per poco quindi affrettatevi poi vi diremo qual è è un altro in realtà che abbiamo ampiamente visto al cinema all'epoca ma che si può trovare in streaming tranquillamente quindi inizi tu diciamo allora che i due film in questioni sono sono tutte e due eh biografici eh uno è dedicato a Florence Foster Jenkins la cantante più stonata di tutti i tempi ma che ha una storia meravigliosa perché questa donna realmente esistita è anche era anche una mecenate eh dell'arte e della musica amica di Arturio Toscanini quindi un personaggio veramente oserei dire letterario ecco diciamo due parole su su questo film è un film del 2016 diretto da eh Stephen Frears eh con un cast di quelli come si suol dire stellari Meryl Streep che appunto la ehm interpreta la protagonista e io aggiungo una protagonista eh doppiata alla grande da Maria Pia Di Meo eh perché lo dico perché questa volta faccio un cenno su su anche la doppiatrice perché tutte le varie performance canore completamente stonate di questo eh soprano abbastanza improvvisato come era Florence Foster Jenkins eh in realtà sono eh dal punto di vista proprio dell'interpretazione un virtuosismo perché è veramente difficile sembra facile diceva bene che vuol dire stona no stonare come stonava la Foster Jenkins è veramente complicato e Maria Pia Di Meo c'è riuscita alla grande tra l'altro voce e doppiatrice storica di Meryl Streep eh sì eh sì altri attori Grant Simon Alberg Nina Arianda Rebecca Ferguson eh c'è un grandissimo eh Cosmi eh il pianista eh di questa di questa Florence Foster Jenkins che l'ha seguita per praticamente per tutta la sua carriera eh interpretato da un attore che fa capire tutto il grande imbarazzo di questo pianista che avrebbe sognato ben altre vette invece si ritrova ad accompagnare questa donna al quale poi rimase anche affettuosamente legato eh non non dimentica che questa donna all'apice della sua carriera poco prima di morire si esibì alla Carnegie Hall quindi non stiamo parlando esattamente di 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 cose che fanno tremare i polsi semplicemente già ad altri ehm cantanti ben più navigati eh le musiche le musiche sono di Alexander Desplat grandissimo compositore non vi aspettate su questa colonna sonora eh i virtuosismi alla Gran Budapest Hotel per intenderci stiamo parlando di una colonna sonora più elegante dal punto di vista formale dove fa capire che è in grado anche di districarsi su partitura diciamo così più tradizionali l'impianto più tradizionale ma sempre di grandissima eh classe ehm lo potete vedere su Netflix ma secondo me anche su tantissime altre eh piattaforme quindi questo è il mio consiglio per chi non l'ha visto appunto qualche anno fa ma adesso passiamo a invece al film che attualmente è ancora nelle sale e stiamo parlando di The Fabelman o Fabelman come si dice? Si dice The Fabelman ovviamente parliamo del film della biografia anche un po' edulcorata ma comunque abbastanza pertinente al personaggio che l'ha messa in scena il mio regista della vita lo dico sempre io eh amo Steven Spielberg mi ha accompagnato fin dalla tenera infanzia il mio film che mi porterei nell'isola deserta l'ho già detto in altre occasioni è e qui parliamo non solo di dell'infanzia e dell'adolescenza di questo ragazzo che ovviamente non si chiama il film The Spielbergs ma in realtà è stato tramutato in Fabelman e quindi Sammy Fabelman eh ebreo ha una storia molto particolare e quindi è il rapporto di questo ragazzo con la mamma e con il papà e con la famiglia perché poi ha tre sorelle e uno zio che non è zio ma non dico altro non voglio svelare diciamo uno dei colpi di scena del film e si narra proprio questa passione volontario involontario che viene un po' indotta dalla mamma all'artista di casa e da papà è il genio di casa perché è colui che poi lavorando all'IBM per l'IBM creerà questi computer che tutti oggi sappiamo che cosa fanno ma all'epoca ancora era un mistero un punto interrogativo enorme quindi è stato anche un grandissimo eh e lungimirante uomo eh di scienza e quindi lui era l'uomo di scienza che che vedeva nella nella passione del figlio per il cinema per le immagini per la fotografia in movimento una una sorta di hobby in realtà la mamma che era pianista non eh altamente compiuta nel senso che poteva diventare una grandissima pianista e in realtà poi eh e fece la casalinga la mamma però instillò nel figlio questo questa passione straordinaria nei confondi delle immagini la fotografia in movimento quindi si vedono i corti che Spielberg ha girato da piccolo il famoso Gunsmoke un omaggio al western di John Ford e e poi c'è l'altro film l'altro corto che lui girò Escape from No Here che sarebbe Fuga dal Nulla un film di guerra diciamo che è la eh diciamo che è l'antenato di Salvati Soda Doraia ecco chiamiamola così ma c'è tutta la passione di Spielberg c'è tutto l'amore per il cinema ma in realtà non è un film solo sul cinema su questa passione ma è un film sulla famiglia e finalmente ha fatto un film su suo papà e sua mamma e devo dire che il film in questi momenti in cui c'è rapporto col padre con la madre è altamente toccante si piange e chi non piange vuol dire che non è in entrata in empatia con questo film ed è difficile non entrarci accompagnato anche da un momento musicale perché ovviamente torniamo nel grande sodalizio fra Spielberg e John Williams anche se questa volta John Williams è nelle retrovie nel senso che si tiene intimamente in disparte entra giusto appunto quando deve entrare ci saranno se no venti minuti di musica in due ore e dieci di film di musica originale di Williams per questo ci sono pezzi in musica classica anche canzoni ho sentito anche canzoni dell'epoca il limbo ma molte altre ce ne sono canzoni degli anni cinquanta negli anni quaranta negli anni cinquanta e via discorrendo e devo dire che John Williams veramente entra in punta di Fioretto con questo tema bellissimo io un tema che mi ha ricordato quelle sue partiture emozionali non parliamo di partitura da grande sinfonia qua parliamo di partitura che possono ricordare turista per caso nemiche amiche memoria di una geisha lettere d'amore o veramente quelle quelle partiture altamente emozionali intimiste come vi dicevo e poi è bello quando Williams riesce a interpolare nella sua composizione originale per pianoforte e archi anche pezzi di musica classica come Aiden o come questo autore che devo dire sinceramente non conoscevo e mi ha molto impressionato ora vi dico anche come si chiama perché ci sono molti pezzi suoi spero di pronunciarlo bene sono degli adagi degli allegri e si chiama joanne pierce martin spero di averlo pronunciato bene voglio aggiungere che da music supervisor che questa questa colonna sonora ha un numero incredibile di contributi extra diciamo john williams sia nell'ambito della musica classica di cui già hai parlato da beethoven a satì ha anche lo stesso gershwin in qualche modo ma poi anche ci sono delle citazioni che hanno a che fare con alfred newman che hanno a che fare con max tyner e poi tante canzoni degli anni sessanta da da chubby checker che sarebbe quello di limbo rock ai chiffon sei crystals evidentemente tutti i brani che disegnano descrivano bene gli anni in cui del dell'adolescenza di 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 spilberg vuoi dire altre cose circa quel compositore che ha fatto la colonna sonora john williams o sei soddisfatto così ecco ma sono soddisfatto e sono sicuro che quest'anno gli daranno l'oscar sarebbe il sesto in carriera senti siccome non ne abbiamo parlato però ne hai parlato su colonne sonora però è il caso che che dici due parole qui insomma qualche mese fa c'è stato eh il concerto no di alla scala di milano appunto di di john williams tu naturalmente eri lì eh descrivici descrivici quella serata descrivici anche dal punto di vista non solo emozionale come evidentemente tu sai fare e fai spessissimo ma anche dal punto di vista artistico il repertorio che è stato eseguito e quant'altro allora eh diciamo che dal punto di vista del repertorio messo in scaletta da williams che è stato lo sottolineo invitato come successo a berlino e a vienna è stato invitato dalla frenarmonica della scala per eseguire la sua musica eh ovviamente per immagini quindi per il cinema e ha fatto una scaletta abbastanza nella norma cioè ha inserito i pezzi di star wars più noti i pezzi di harry potter e poi anzi ha fatto delle scelte devo dire anche particolari con una suite da cuori ribelli fare una way quello famoso con tom plus e nicole kiddi ma film western di ron haward ha fatto la marcia di superman eh il tema d'amore di superman la alcuni pezzi da eh Indiana Jones e lì devo dire che c'è stato il momento più bello più emozionante perché ha fatto eh ha messo ha deciso di mettere in ehm di far suonare la frenarmonica della scala il pezzo inedito il tema di Elena dal nuovo Indiana Jones che riuscirà la prossima estate un'anticipazione e devo dire che è un pezzo alla micro soloscia che tra l'altro è un autore che Williams ha sempre amato è un pezzo di una bellezza incredibile per questo nuovo personaggio che entra in scena che credo che sia un parente di del famoso indie del famoso archeologo e ma lo sapremo solo quando vedremo il film la allora la filarmonica della scala mi ha lasciato un po' così l'ho scritto anche nel mio pezzo nel senso che eh nel nei momenti in cui eh i la la musica eh dava maggiore intensità e maggior spazio agli archi lì veramente era qualcosa da eh da da rimanere un po' proprio con le lacrime agli occhi e e emozionarsi all'ennesima potenza devo dire che l'ho scritto anche eh c'è stata una delle interpretazioni più intense e più belle in assoluto del tema di Schinders List lì veramente eh standing ovation ogni brano il pubblico si è alzato numerosissimo sold out c'è una persona da tutte le parti del mondo non solo dall'Italia c'era Pino Donaggio c'erano molti colleghi che sono venuti a sentire questo grande titano della musica per immagini e lui era contentissimo ragazzi a novantun anni vederlo così pimpante sul podio cioè mi ha fatto un invito cioè da fare invito a ragazzi ben più giovani a colleghi molto più giovani che non ce la fanno ad avere quella 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 tempra quel modo di porsi sul palco e se pensate storicamente questa è una molto importante che anche mio di sino che il suo biografo Williams è uno dei più longevi e più vecchi anziani chiamiamoli anziani direttori d'orchestra esistenti nel senso che ancora in tournée un po' come l'ha stato Morricone ma che ancora è in giro in tournée per il mondo che dirige la sua musica dirige la musica anche di altri e questo lo rimanda il pubblico glielo restituisce con applausi a scena aperta se ne uscino da stadio perché sembrava di stare a vedere a un certo punto un concerto di Vasco Rossi o di dei Beatles o di Pink Floyd per l'euforia per l'entusiasmo per le urla che lui doveva anche placare ogni tanto perché si sovrapponevano alla musica devo dire che è stata un'esperienza incredibile e in quel poi contesto la scala credo che è stata la prima volta che musica di quel livello di quel sinfonismo da grand'era hollywoodiana perché prima di lui c'è stato e Morricone con la mangia tornatore e qualche sporadico altro caso di musica per colonne sonore ma questa è stata una delle prime volte in cui abbiamo visto un premio oscar un grande autore di musica applicata alle immagini uno dei grandi ormai titani della musica applicata alle immagini a salire su quel podio e dirigere quell'orchestra che devo dire gli ha restituito un grande affetto una grande un grande eh amore nella nell'esecuzione della performance tranne e qui nota dolente i gli ottoni e lì devo dire che ha dovuto rallentare un po cambiare i tempi le cadenze perché non ce la facevano quindi quindi Hans Zimmer non suonerà mai alla scala eh perché visto che ha creato la sua potenza proprio sugli ottoni quindi va bene senti eh io invece sono felice semplicemente del fatto che in un ambiente ripeto dove ancora la musica eh applicata la musica per le immagini la musica del cinema non è che è proprio stato sdoganato del tutto insomma mi fa piacere vedere insomma che invece qualche cosa si comincia a muovere d'altronde ha 91 anni quindi gli si potrà anche concedere quindi tutto questo allora grazie a tutti allora abbiamo parlato di Fibelmans abbiamo parlato di Florence Foster Jenkins un tuffo proprio nella musica finale eh con anche alla scala per il concerto di John Williams è avvenuto il dodici di dicembre ok lo ha tatuato su quella da sul suo polso quella data va bene grazie a tutti ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao